Navi della speranza di ieri e di oggi, premio Exodus 2016 al Vescovo Palletti e le associazioni per l'accoglienza migranti. Disperso per diverse ore tra Vernazza e Monterosso, un giovane turista inglese ritrovato dal soccorso alpino. Al Via Domani la quinta edizione di Sea Future, protagoniste sino a sabato oltre 110 aziende e 27 marine militari estere. Gestire un hotel per qualche giorno, l'esperienza degli studenti dell'alberghiero Casini a Milano Marittima. Di Carlo suona la carica 120 minuti per scrivere un pezzo di storia e dopo 8 anni Carispezia Basket torna in A1. Buonasera telespettatori del TLS giornale, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione. Un'edizione, quella del 2016, del premio Exodus carica di significato. La menzione speciale è andata infatti al Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Luigi Ernesto Palletti e alle associazioni di volontari di Caritas, Croce Rossa Italiana, Gruppo Betania, Sermi Gonlus impegnate per l'accoglienza ai profughi e ai rifugiati alla Spezia. Il servizio di Enrico Colombo, le immagini di Davide Morina. Monsignore, un premio speciale, che poi speciale non significa nulla perché questo è un premio alla solidarietà, all'umanità, di quei momenti difficili che tutti dovremmo ricordare molto più spesso, è vero? Certo, direi che è anche bello il titolo, più che premio menzione, di una menzione che ovviamente si estende veramente a tutti perché qui è una menzione data al riconoscimento di un insieme di lavori e di persone che collaborano proprio in questa rete di solidarietà. Mi sembra veramente importante, come ho detto, sia per venire incontro a delle necessità come anche per poter esprimere delle potenzialità di solidarietà che tanto servono proprio al nostro mondo contemporaneo. Ecco, Eccoci ci racconta che nonostante la città fosse estremata è scattato qualcosa che è impensabile a quei tempi perché c'era tanta miseria e tanto bisogno, però è un pochino l'animo degli spezzini che quando c'è bisogno escono fuori da questa loro rudezza a volte apparente. Questo è molto bello perché realmente manifesta delle dimensioni che forse non sarebbero così immediatamente visibili, ma che però sono presenti ed è questo che è molto importante, come è anche importante il fatto che siano manifestate non solo come singoli ma anche come collettività. Sindaco, la generosità di questa città non si sventisce mai, anche perché ricordare quei periodi in cui tutti soffrivano, aver dato dimostrazioni di generosità e altruismo fa onore alla nostra città che diciamo con la generosità dimostra sempre di essere all'altezza della situazione. Io credo che sia diventato un tratto distintivo della nostra identità, del nostro carattere. Alcune pagine ce lo dicono in modo molto chiaro e forse la più evocativa è proprio quella scritta in quegli anni durissimi per la città. La città era distrutta, seppe essere solidale e accogliere queste persone che venivano qui per ritornare nella terra dei padri e trovarono solidarietà ed accoglienza. Però oggi quando io sono salito qua sul palco e ho visto questa platea con tutti questi volontari della Caritas, della Croce Rossa, della Ollus di Betania eccetera, insomma io davvero non ho potuto non dire grazie a Spezia, grazie a città perché c'è davvero qualcosa che pulsa, è un cuore grande quello della nostra città, è vero, non è retorica. E un più ampio servizio sulla manifestazione andrà in onda domani sera nella trasmissione Essere Chiesa Oggi. Rimaniamo in Sala Dante dove stamattina si è parlato di immaginare la Shoah, la Spezia, porta della speranza. Protagonisti i ragazzi degli istituti scolastici Spezzini per un incontro con Francesca Recchialuciani, docente di storia delle filosofie contemporanee all'Università di Bari e con Maria Luisa Eggez, animatrice del gruppo Samuel. Le interviste di Laura Ivani, le immagini di Davide Morina. La Spezia porta di Exodus, quanto è importante e come si fa a parlare oggi a dei giovani, a dei ragazzi, forse molto lontani da quella realtà oggi, quella storia così lontana ma che di fatto ci appartiene. Sì, di fatti la sfida è proprio questa, renda l'attuale. Cercare di portare il focus sul fatto che c'erano delle navi che dall'Italia andavano in Medio Oriente e adesso ci sono delle navi che fanno il percorso contrario. Quindi vedere questo mondo nella sua globalità, questo Mare Nostrum che veramente deve essere aperto al dialogo fra sponde e sponde. E se i ragazzi non capiscono questo rischiano di essere ancora una volta fagocitati da quelle che sono l'ideologia. Ho parlato prima degli stereotipi, ecco, che non c'è niente di peggio che fare muro contro muro. La vicenda di Exodus con questa barca della speranza ci porta una storia lontana del tempo ma tutto sommato vicina ai giorni nostri. E poi è quello che avete cercato di trasmettere quest'oggi anche a questi ragazzi. Qual è la chiave di lettura? Beh, la memoria è futuro. Il passato e il futuro sono collegati tra loro, dunque scoprire questa vicenda oggi ha un valore straordinario perché ricorda molto da vicino vicende che tutti i giorni vediamo intorno a noi, sono intorno a noi, il diverso è con noi e questa vicenda ha molte similitudini con l'oggi. Noi vorremmo che la conoscenza, la cultura, lo studio, la storia fossero il sistema per vivere nell'oggi. Quindi sì, è chiaro che noi stiamo passando il testimone della memoria ai ragazzi perché i ragazzi sono coloro che nel futuro dovranno provare a evitare che queste catastrofi si ripetano. Exodus rappresenta ancora un patrimonio storico e culturale per la nostra città? Sì, certamente. Ogni anno con il premio Exodus noi rinnoviamo il ricordo di una significativa mobilitazione da parte della cittadinanza in occasione della permanenza qui delle due navi febbre e fenice nel nostro golfo, cariche di profughi ebrei che volevano raggiungere la loro terra di origine. In quell'occasione davvero tutta la città si strinse attorno a queste persone e alla loro lotta, alla loro mobilitazione, aiutandoli costantemente a poter raggiungere la terra d'origine. Vediamo la cronaca ritrovato dal soccorso alpino della stazione della Spezia, un turista inglese di 22 anni che si era perso nel sentiero tra Vernazza e Monte Rosso nelle 5 terre. L'allarme è scattato alle 9.30 quando i carabinieri di Monte Rosso hanno girato la segnalazione al soccorso alpino. La squadra spezzina ha raggiunto il posto, ha iniziato le ricerche del giovane e che dopo circa due ore è stato ritrovato, una volta accertate le buone condizioni di salute, è riaccompagnato a Monte Rosso. Al via domani la quinta edizione di Sea Future and Maritime Technologies 2016, evento di rilevanza internazionale dedicato all'economia del mare, alle sinergie con gli enti tecnico-scientifici e le imprese del settore, che si terrà alla Spezia dal 24 al 28 maggio nell'arsenale militare marittimo. Domani alle 18.30 l'apertura ufficiale dell'evento con l'intervento del sottosegretario di Stato alla difesa, l'onorevole Domenico Rossi. Per i quattro giorni successivi la Spezia, con il suo arsenale militare, rappresenterà la capitale dell'economia del mare, portando il Golfo dei Poeti e tutto il nostro paese al centro del Mediterraneo. Oltre 110 aziende e 27 marine militari estere saranno protagoniste del più importante evento internazionale organizzato in Italia. Si sono concluse le celebrazioni del preziosissimo sangue a Sarzana, con una partecipazione popolare forte ai momenti salienti. Tra questi le celebrazioni ufficiate da Monsignor Edoardo Menichelli, Vescovo di Ancona Osimo. Italo Lunghi. Dopo l'esposizione al culto e alla preghiera della reliquia del preziosissimo sangue, nelle diverse parrocchie delle diocesi prima di Massacarrara, Pontremoli e successivamente in quelle locali di Brugnato, chiesa cattedrale della Spezia e parrocchia di San Pietro Apostolo a Mazzetta, i festeggiamenti in Sarzana come tradizione secolare sono iniziati domenica sera con la Santa Messa per i defunti della Congregazione del preziosissimo sangue, preseduta dal canonico Romano Rossi in concattedrale. Già dalla prima celebrazione sono presenti oltre ai fedeli i labari delle diverse associazioni Avis dei comuni della Vallata e il gonfalone del comune di Sarzana. Terminata la celebrazione, dal vicino oratorio di San Girolamo, dove si erano riuniti i presbiteri diocesani e i canonici del capitolo della chiesa concattedrale di Santa Maria Assunta, è partita la processione con le confraternite per l'ingresso in Basilica e il solenne Canto dei Vespri, preseduti dal cardinal Edoardo Menichelli, arcivescovo di Ancona Osimo. Grande partecipazione popolare con la presenza delle autorità, dal prefetto della Spezia, dottor Mauro Lubatti, al sindaco della città, Alessio Cavarra, al senatore Massimo Caleo e tutte le autorità militari. Non hanno fatto mancare la loro presenza le associazioni d'arma, ancora le diverse sezioni dell'Avis del territorio, molte confraternite convenute anche dalla vicina Massa Carrara e in posizione d'onore, i cavalieri dell'Ordine di Malta in alto uniforme, gli scout e i bambini della prima comunione. Sotto l'attenta regia liturgica del parroco Monsignor Piero Barbieri, il Canto dei Vespri guidati dalla cappella Ferdinando Maberini, diretta dalla maestra Alessandra Montali e l'avvio della processione per le vie di Sarzana ha registrato una partecipazione davvero numerosa, segno di fede e di devozione per la preziosissima reliquia, un percorso che ha attraversato via Mazzini, piazza Matteotti, via Marconi, via Landinelli, piazza Battisti, via della Cittadella, via Mascardi, via Castruccio per fare poi ritorno in cattedrale e il Vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti sotto il baldacchino sorretto dai soci dell'Associazione Marinai d'Italia a portare la sacra reliquia. A rientro in concattedrale è il Cardinal Menichelli a proporre una breve riflessione che sarà poi integrata nel corso dell'Omelia della celebrazione di lunedì mattina, festa liturgica del preziosissimo sangue, la benedizione con la reliquia del preziosissimo sangue prima del congedo ai presenti. Ancora lunedì mattina canto dell'ora media nella chiesa di Sant'Andrea e trasferimento in processione sino alla cattedrale dove è il Cardinal Menichelli a presiedere la celebrazione alla presenza di tantissimi presbiteri e di fedeli. Un ultimo appuntamento nella serata di lunedì con la celebrazione giubilare per gli ammalati e l'amministrazione dell'unzione degli infermi. Nei tre giorni di festa il Museo Diocesano di Sarzana ha ospitato una mostra sul tema la reliquia nella storia della diocesi di luni Sarzana. La mostra è stata visitata anche dal Cardinal Menichelli al termine della celebrazione di lunedì. In essere chiesa oggi e di domani sera un'ampia sintesi delle celebrazioni e la registrazione integrale della omelia di Monsignor Edoardo Menichelli. Abbiamo recepito le osservazioni di carattere tecnico formulate dal Governo sul piano casa. Non c'è stata richiesta nessuna modifica sostanziale del testo. Così il Presidente della Commissione Territorio Ambiente Andrea Costa che spiega si tratta di puntualizzazioni relative ad iter autorizzativi. Consistono in passaggi già previsti che noi davamo per scontati ma il Governo ci ha chiesto di indicarli con chiarezza e non abbiamo avuto alcuna difficoltà a farlo. Il piano è in vigore da sei mesi e non pare che la Liguria sia stata invasa dal cemento come qualcuno paventava, conclude Costa. Il provvedimento passerà domani all'esame finale del Consiglio regionale. Apprendo con soddisfazione la disponibilità per qualsiasi necessità di supporto alla Regione Liguria manifestata da AGEA. Dopo tante sollecitazioni e lettere inviate in ogni sede istituzionale, forse oggi siamo arrivati a una svolta per sbloccare definitivamente il sistema informativo agricolo nazionale da cui dipende l'avvio delle procedure. Così interviene l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai dopo aver appreso i contenuti di una nota stampa da parte di AGEA, l'agenzia del Ministero dell'Agricoltura che gestisce le pratiche presentate dalle imprese per i bandi. Se in due anni dall'apertura dell'attuale programmazione, commenta l'assessore, su 13 regioni sono stati aperti solo 4 bandi su circa 400, è evidente che ci siano dei problemi di sistema, probabilmente eccessivamente farraginoso. Vista la disponibilità manifestata da AGEA, siamo pronti ad andare a Roma per un incontro tecnico che possa finalmente risolvere il gap informativo e procedere allo sblocco dei bandi che come Regione Liguria abbiamo pronti per andare incontro alle imprese del territorio. Circolazione dei treni regionali di Trenitalia in Liguria con contenute ripercussioni in occasione dello sciopero del personale ferroviario indetto da alcune sigle sindacali autonome dalle ore 21 di domani alle ore 18 di mercoledì 25 maggio, limitato il numero delle cancellazioni possibili, così Trenitalia che comunica come circoleranno due treni su tre nelle linee Genova-Savona, La Spezia-Sestri-Levante, Genova-Sestri-Levante e la metà dei collegamenti previsti sulla linea Savona-Ventibiglia. Circoleranno regolarmente anche le frecce, alcuni intersiti che non rientrano tra quelli garantiti potranno essere cancellati o limitati nel percorso. L'alberghiero Casini, attuando un'esperienza innovativa, ha ospitato all'hotel Lido di Milano Marittima docenti, alunni e la dirigente della scuola Media 2 Giugno in gita scolastica. L'iniziativa ha consentito agli studenti della scuola di Via Fontevivo, in stage presso la struttura ricettiva sull'Adriatico, di offrire ai compagni più piccoli un'accoglienza a 360 gradi, dimostrando tutta la loro professionalità. Elisabetta Toracca. Da quest'anno lo stage che effettuano le classi seconde dell'alberghiero Casini all'hotel Lido di Milano Marittima, gestendo totalmente la struttura, è aperto all'accoglienza delle scuole medie spezzine, con un'offerta di servizi completa, di qualità e concorrenziale sul piano economico. Questa è un'occasione per fare continuità con la scuola media, per mettere i nostri ragazzi in gioco con altre scuole, altre classi e devo dire che l'esperienza mi sembra che stia avendo un grandissimo successo. Sia i nostri studenti hanno, come sempre, dimostrato estrema professionalità, ma mi sembra anche che tutto il servizio che è stato fatto sia stato gradito molto dalla scuola media e da tutto l'istituto del 2 giugno. La prima ad accettare la proposta è stata la scuola media 2 giugno, che ha partecipato con un'ottantina di studenti, accompagnati dai loro insegnanti e dalla dirigente Antonella Minucci, la quale ha espresso da subito giudizi positivi sull'iniziativa. La proposta che è venuta all'istole Belghiero l'abbiamo accolta subito con entusiasmo per una serie di motivazioni. In questa sala, fra i ragazzi che sono in servizio, oltre la metà sono stati nostri alunni. Poi, questo territorio è bellissimo, ma un po' lontano. Se non avessimo potuto godere di questa specialissima tariffa, non avremmo neanche potuto affrontare i costi legati al trasporto. Quindi abbiamo unito cultura, divertimento, natura insieme la possibilità di far vedere a loro un'esperienza veramente professionalizzante. Contenti anche i ragazzi che hanno ricevuto tante primurose attenzioni da parte dei compagni più grandi. Sei contenta di partecipare, a parte alla gita, anche a questa esperienza di incontrare dei ragazzi più grandi di te che lavorano qui a uno stagio, in questo albergo? Sì, sinceramente sì. È bello conoscere comunque anche nuove persone. Un'accoglienza molto calorosa, siamo stati accolti bene, il cibo è buono, sono gentili questi ragazzi. Come primo impatto, visto che sono delle brave persone, e quanto visto sono anche bravi a cucinare, bravi a servire. Sono stati molto accoglienti, i piatti erano buonissimi. Come negli scorsi anni, per favorire la mobilità via mare, anche su sollecitazione dei sindaci della Spezia Federici e di Porto Venere e Cozzani, gli amministratori della cooperativa navigazione Golfo dei Poeti hanno confermato le tariffe agevolate per tutti i residenti in provincia sulla tratta alla Spezia Porto Venere senza oneri a carico delle amministrazioni pubbliche. Infatti il mancato incasso sarà a carico completamente della società di navigazione. Fino a fine stagione tutti i residenti in provincia pagheranno la tariffa agevolata di 5 euro andata e ritorno sulla linea alla Spezia Porto Venere, anziché quella ordinaria di 10 euro. Sulla tratta alla Spezia Palmaria Pozzale la tariffa di 10 euro andata e ritorno viene ridotta a 8 per i residenti in provincia della Spezia. Previsti anche abbonamenti da 10 corse al costo di 65 euro ridotti a 35 euro per i minori di 11 anni. L'Istituto Gaslini di Genova ha predisposto l'apertura di tre nuovi ambulatori pomeridiani sub-specialistici nell'ambito di ambulatori particolarmente gravati dalle liste di attesa. Si tratta di ortopedia il martedì dalle 15 alle 18, ostetricia il mercoledì dalle 13 alle 16 e oculistica il venerdì dalle 14 alle 17. L'utente interessato potrà accedere agli ambulatori liberamente fino all'esaurimento dei posti disponibili attraverso il canale di prenotazione CUP Web già utilizzato per altre specialità munito di richiesta del pediatra di libera scelta o del medico di base. In Italia un bambino su quattro è sovrappeso, uno su dieci obeso, numeri preoccupanti, ritorna nelle scuole italiane la campagna itinerante contro l'obesità infantile, mangia bene, cresci bene. Domani nella fascia oraria dalle 14.10 alle 16.10 il dottor Alberto Fiorito spiegherà l'importanza di un'alimentazione salutare e l'adozione di corretti stili di vita agli alunni della scuola media Piaget di La Spezia. Nella stessa giornata, nella fascia oraria dalle 17 alle 18, il dottor Fiorito incontrerà anche i genitori degli alunni. Oltre due milioni di mazzi di basilico DOP, quattro milioni e mezzo di bottiglie di vino sono solo alcuni esempi di cosa il territorio Ligure rischia di perdere se l'agricoltura entra in una crisi irreversibile. Per evitarlo gli agricoltori di Cia Liguria scenderanno in Piazza dei Ferrari a Genova domani dalle ore 10.00. ANAS comunica che da mercoledì 25 maggio a venerdì 3 giugno, nella fascia oraria tra le 8 e le 18, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi, sarà istituito il senso unico alternato in tratti saltuali sulla statale Aurelia. Il provvedimento si rende necessario per consentire l'esecuzione dei lavori di abbattimento di alcune alberature lungo la statale nei territori comunali di Carrodano, Deiva Marina, Moneglia e Casarza Ligure. Confartigianato organizza Sesta Godano domani alle 17 nella Sala del Consiglio Comunale un seminario dal titolo Affittacamere e case vacanze, la gestione imprenditoriale della ricettività diffusa. Il seminario è aperto a tutti con ingresso libero. Sempre domani ma alle 21 nella Sala Polivalente in Piazza 2 Giugno ad Arcola, nono appuntamento con le conferenze evento dedicate al grande mondo della lirica. Augusto Lombardini parlerà di viaggio alla scoperta del mondo dell'opera, curiosità ed aneddoti. E veniamo allo sport, al calcio dopo il pareggio con Lascoli che ha valso l'accesso matematico ai play-off. Domani lo Spezia sarà impegnato alle 20.30 al Manuzzi di Cesena, una gara unica che deciderà se gli uomini di Mister Di Carlo saranno dentro o fuori. Prima di sentire il tecnico Spezzino ricordiamo che la squadra dovrà fare a meno dello squalificato Calaiò, mentre tra i convocati sono recuperabili Nenè e Postigo. Per noi la semifinale è un obiettivo da andare ad agguantare attraverso quello che ripeto il coraggio e l'atteggiamento che sono cose che non devono mancare domani a Cesena perché giocare per non prendere gol e per stare lì e aspettare non ci piace a nessuno. I ragazzi hanno dimostrato di saper giocare anche a ritmi alti fuori casa, hanno vinto molte partite e quindi questo deve dare forza, fiducia e coraggio per andare a fare questa impresa a Cesena. Lo Spezia è una squadra dove deve giocare partite importanti e questa per noi è una partita importante, quindi siamo pronti, siamo pronti come abbiamo vinto a Cagliari, come abbiamo vinto a Roma, come abbiamo vinto in casa tante partite difficili, siamo pronti a questa sfida. Non voglio che ci siano timori, voglio che ci siano grandi motivazioni, grande coraggio, voglio che ci sia da parte della squadra quella prova di personalità che abbiamo fatto tante volte, quella personalità che ci ha dato la forza di arrivare nei play-off perché ripeto da quando siamo partiti e come eravamo messi la squadra è cresciuta molto. Oggi la cittadina sulla torta sarebbe proprio arrivare in semifinale perché comunque lo Spezia non è mai arrivato, quindi già lì significherebbe scrivere un pezzo di storia, ecco che dicevo io perché prima ho detto il pezzo di storia, che arrivare in semifinale significherebbe scrivere un pezzo di storia. Giornata dalle mille emozioni ieri per lo sport spezzino, dopo otto anni infatti Carispezia a basket ha festeggiato la conquista della 1 femminile, mentre nella serie D di calcio la Fezzanese ha ottenuto la salvezza battendo Vado 2-0. Jacopo Cidale. In attesa di notizie positive da Cesena, dove domani è in programma la gara dei play-off di serie B tra lo Spezia e i padroni di casa, ieri per la nostra città è stata una giornata storica dal punto di vista sportivo. La Carispezia a basket femminile ha ottenuto una storica promozione in serie A a distanza di 8 anni dall'ultima volta, battendo 58-49 crema in gara 3 della finale play-off di serie A2. Nel calcio invece in serie D la Fezzanese ha ottenuto la salvezza vincendo i play-out sul campo del Vado per 2-0, grazie ad una doppietta realizzata nel secondo tempo da Grasselli. In ordine cronologico la prima squadra spezzina a giocarsi la stagione è stata la Fezzanese, che a Vado Ligure cercava di ottenere la permanenza in quella serie D conquistata lo scorso anno per la prima volta nella storia. Una gara combattuta ed equilibrata fino all'ultimo, risolta al 77esimo dal subentrato Grasselli. Assist perfetto dell'ex Spezia Biso, con Grasselli che ne approfitta e batte il portiere. Si ripeterà anche all'86esimo su una ripartenza in contropiede ed è 2-0 per la Fezzanese di mister Zuccarelli. Alle 18 sul parquet di Montepertico andava in scena gara 3 della finale play-off di A2 femminile di basket tra Carispezia e Crema. Per quanto riguarda le fasi salienti del match, le ragazze di coach Corsolini partono subito a razzo e chiudono il primo quarto avanti 22-13. Nei secondi 10 minuti Crema fa vedere a tutti di non essere arrivata a giocarsi la serie A per caso e, complice alcuni errori di Carispezia, si riporta sotto nel risultato, chiudendo addirittura in vantaggio la prima parte di gara, 31-29. Nel terzo set si rivede la vera Carispezia, che non vuole certo buttare via quanto fatto durante questo campionato. Le ragazze di coach Corsolini pareggiano i conti con Crema e si riportano davanti, chiudendo il terzo quarto avanti 47-39. Negli ultimi 10 minuti Crema tenta la reazione, ma la gara termina 58-49 per le spezzine, che festeggiano una meritatissima serie A. Vediamo alle previsioni per martedì 24 maggio con l'allontanamento della perturbazione che ci ha attraversato, seppur marginalmente, a cavallo del weekend e del lunedì appena trascorso, con un cielo che, come vedete, sarà per lo più sereno, con qualche velatura occasionale, umidità su valori medi, venti deboli o moderati in prevalenza meridionali, mare localmente mosso e temperature comprese fra 13 e 23 gradi. Tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni con il TLS Giornale. Buon proseguimento di serata, arrivederci. Buon proseguimento di serata, arrivederci.